Ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video allora mi sentirete un pochettino otturata perché ho preso un pochino di mal di gola poi se ne è andato un po' il mal di gola ed è venuto il raffreddore, non ci facciamo mancare niente sembro baciata dal sole ma mi arriva una sferri di sole da questo lato di qua e abituata a fare i video qua perché mi trovo bene ad appoggiare le cose non ci fate caso ecco alla luce troppo forte magari mi sposto così ma penso sia più o meno la stessa cosa comunque vi volevo far vedere le cosine che abbiamo preso con i saldi in realtà raga allora queste sono cose che abbiamo preso da Piazza Italia e poi volevo far vedere delle cose prese al DM comunque questo è il sacchettone di Piazza Italia la bussona perché a me mancavano delle maglie poi c'è anche una mini bustina qui che c'è l'affarone più bello di Piazza Italia e poi vi volevo far vedere delle cosine che ho preso abbiamo preso con Vittorio dal DM DM, DM non lo so comunque devo dire che da quando è aperto qua in un centro commerciale io so che non so quanti ce ne siano a Torino però ci stiamo trovando bene perché ha delle marche tipo Balea e Alverde che per avere degli inci decenti specialmente Alverde Balea è classico come tipo di prodotto diciamo come non sono prodotti biologici però hanno dei prezzi veramente molto bassi e quindi ci siamo fatti un giro poi ogni tanto un po' tipo IperSoap mettono delle belle offerte e quindi abbiamo pensato di farci un giretto vi faccio giusto vedere le cose che abbiamo preso perché magari essendoci qualcosina in offerta vi può essere utile insomma ho gli occhi spiritati non ci fate caso perché io praticamente stanotte non ho dormito per niente infatti ho due non sono borse queste queste sono zainetti cioè proprio stile Louis Vuitton comunque vabbè non ho fatto dormire manco santo subito stanotte ma stavo tutta otturata cioè il raffreddore è una cosa allucinante comunque vi volevo far vedere a soli 1,10 euro 1,20 euro abbiamo preso questa confezione enorme di fazzolettini cioè io ho preso i fazzolettini giustamente no mi doveva venire il raffreddore perché sennò come li uso i fazzolettini e la precisione questi sono 30 per 10 quindi sono 30 pacchi e ogni pacco ha 10 fazzolettini 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10 praticamente sono così vabbè allora le confezioncine io non so se voi le notate da qua sono bellissime guardate qui ci sono i panda qui diciamo le cosine tipo natalizie qui ci sono gli orzacchiotti ovviamente ho visto così ho detto perché non prendiamo questo ma poi effettivamente 1,20 euro non è niente per questo pacco il santo subito aveva visto che in offerta ci sono praticamente i DAV a 1,40 euro se non erro questa è la bomboletta quella piccola poi voi lo sapete i DAV fanno mi sembra due formati uno un po' più grande ma lui aveva letto peach e lemon verbenascent praticamente è questo DAV alla pesca allora sapete che io amo adoro quello alla pera ve lo straconsiglio ho visto che hanno fatto pure quello alla mela e magari se tutto va bene insomma nel corso del tempo proverò pure quello però lui mi ha detto no ti voglio far provare questo poi senza zero sali di alluminio bene rosa memore del fatto che vi ho detto prima io faccio finta di annusare questa cosa comunque ha un profumo molto bello veramente delicato e si sente la pesca quindi beh certamente se lo facevo una d'arancia se sentivo l'arancia vabbè rosa si vede che non hai dormito però insomma è carino ve lo voglio provare vediamo se ci piace pure questo ancora sempre lì da DM hanno loro proprio questa marca che è la marca loro balea questi costano 99 centesimi 99 centesimi e sono i loro deodoranti spray questo qua io l'ho voluto provare perché cioè raga è buonissimo allora io vi dico una cosa sapete che io ho preso il dupe di Olimpea il profumo di Pagoraban mi sembra che sia comunque quello piccolino preso da Iversoup sono andata a sniffare sto coso e me lo ricordava tantissimo dato che quello mi è piaciuto lo sto utilizzando ho detto vabbè voglio provare e questo è praticamente Mystic Night si chiama 0% sempre sali di alluminio orchidea e dovrebbe essere orchidea in mora una cosa del genere orchidea dorata in mora sono 200 ml è molto carino anche addosso cioè al di là di siamo per l'igiene la scela ok è bello veramente questo qua cioè provatele io poi ho visto che ci sono diversi altri tipi quindi per 99 centesimi insomma devo provare vediamo com'è poi ancora altra cosa che abbiamo trovato questo costava 2 euro e qualcosa ci sono tantissimi sciampi dell'alverde cioè hanno tutto di questa marca hanno anche i cosmetici io se insomma volete vi rimando ad un vlog se mi ricordo di mettere la scheda comunque uno degli ultimi vlog avevo fatto proprio un piccolo giretto dal DM per farvi vedere più o meno che tipi di marchi ha e l'alverde hanno addirittura tutto lo stand pure del del make up quindi dei cosmetici questo alverde dovrebbe essere alverde cioè nel senso no nel senso che non c'è i sordi quelli quella sono io è alverde nel senso è bio se non mi sbaglio è bio comunque c'è scritto shampoo al profumo di Malva e Mora ha un profumo stupendo io faccio sempre finta di annusare ha un profumo veramente bellissimo per tutti i tipi di capelli senza silicone formula delicata senza sapone con estratto di Malva bio e Mora bio vabbè utilizzo massaggiare quindi vabbè è uno di quelli diciamo che si può utilizzare anche quotidianamente senza silicone proveremo perché poi tenete conto che per ogni tipo di capello hanno un tipo di shampoo noi abbiamo preso questo perché mi sembrava quello diciamo più fattibile sia per me che per Vittorio però comunque li proveremo ho preso il detergente intimo questo qua che è attualmente in offerta a 99 centesimi ho preso questo alta tollerabilità azione riequilibrante vabbè 99 centesimi quindi il non nulla queste però mi costano queste mi costano allora raga io ho provato tanti tipi di striscette credetemi tanti tipi del sì conad sì anche conad quella è la marca proprio conad poi ho provato la sienne ho provato quelle dell'emd ne ho provate tantissimo non sono tantissime non sono male raga non sono male anche quelle sienne però io ho il baffo quello prorompente quello alla sergente carzia cioè proprio sapete ma perché devi dire queste cose allora queste sono le migliori le migliori strep crystal striscia depilatoria viso e parti delicate se non trovate queste strep altre molto buone sono le liscia quelle trasparenti gialline hanno lo stesso prezzo nel senso che o prendete le streppo prendete le liscia andate quasi sui 5 euro però ragazze sono buonissime sono 20 strisce quindi sono 10 attaccate quindi raga se vedevo consigliare una striscia per l'epilazione del baffo alla sange questo che mi ritrovo queste qua sono ultra strong vabbè mi sono giocata la dignità detto ciò andiamo sulle cose di vestiario che così facciamo prima allora super offerta veramente super offerta vi faccio vedere quanto le ho pagate perché se no non ci credete 2 euro e 50 non so se si riesce a leggere 2 euro e 50 l'altro giorno stavamo in un centro commerciale e non l'ho presa allo stesso negozio ho preso prima questa raga le ho già indossate 2 euro e 50 sono bellissime hanno la plastichetta sotto non ve le faccio vedere perché sono già sporche quindi guardate si possono pagare solo 2 euro e 50 ma sono bellissime l'unica cosa che se prendete da piazza vedete come sono sporche sotto perché le ho messe se prendete praticamente le ciabattine da piazza Italia tenete conto che hanno una vestibilità strettissima mo le trovate tutte quante sui 2 euro e 50 quindi se vi servono delle ciabattine correte sono fatte bene però vi ripeto io porto un 38 e mezzo più o meno e queste sono 40 e mi vanno giuste giuste per farvi capire però 2 euro e 50 ce le lasciavi non ce le lasciate ma davanti il bustone che vi ho fatto vedere di piazza Italia quindi super super bustone praticamente qui abbiamo preso velocemente vi faccio vedere dato che ci sono pure dei maschietti che mi seguono vi faccio vedere anche quelle che ha preso Vittorio allora per 7 euro lui ha preso 2 maglie di questo tipo qua questo è un altro colore blu che non vi faccio vedere lui si trova benissimo con queste maglie di piazza Italia io le ho lavate 80.000 volte hanno un'ottima riuscita e quindi per 7 euro ne ha prese 2 una blu e una verde poi vi faccio vedere io invece ho preso dei maglioncini perché mi servivano proprio tanto tanto perché nel trasferimento non ho potuto portare con me 50.000 cose quindi aspettavo i saldi proprio per comprare qualcosina fatto sta che come avete visto siamo andati anche all'outlet ma ragazzi sono dei prezzi allucinanti ma allucinanti è dire poco e quindi siamo andati da piazza Italia cioè in realtà non eravamo andati per fare acquisti però ci siamo fatti un giro da piazza Italia e abbiamo visto questi prezzi e ho detto no vabbè qualcosa cioè se non lo prendo adesso non lo prendo più allora maglioncino questo qua 7 euro costava 19,95 taglia M vestono hanno un'ottima vestibilità guardate è questo è bellissimo io avrei voluto farvelo vedere indossato però onestamente raga l'avrei fatta la cosa del video indossato che poi sono maglioncini però stando un pochino male vorrei evitare di vestirmi e vestirmi tutto il casino quindi non ce la faccio ecco allora ve lo voglio far vedere è bellissimo è nero con tutti questi strassini guardate quanto è carino e la cosa che mi è piaciuta tanto è che ha questo colletto fatto così che rimane bello accollato però non vi dà fastidio cioè è molto morbido come collo e 7 euro raga credetemi si vede che è bello insomma è bella pesantuccia e onestamente che facevi gliela lasciavi no è una poi questa è la scelta in realtà le ha scelte tutte Vittorio quella l'ho scelta io queste qua le ha prese lui perché mentre io stavo nel camerino provando e straprovando ci stavano tanti tipi di maglio ho detto vabbè vedi qual è quella che secondo te mi può andare un pochino meglio e e questa qua è piaciuta tanto a lui è una XL questa ed è venuta 5 euro addirittura questa qua costava sempre 19,95 però stavolta c'è il 75% di sconto i prezzi sono abbastanza veritieri perché io mi ricordo che ero andata a provare delle magliette un po' di tempo fa però diciamo testuali parole aspettiamo i saldi perché già costavano su questo prezzo tipo sui 15-20 euro con i saldi veramente te le buttano appresso cioè 5 euro ed è questo maglioncino molto carino vedete che va un pochino più lunghetto però diciamo che è giusto ecco a me non piacciono quelli giusti non troppo lunghi né troppo corti e come ve lo devo dire è proprio così trama sembra quasi fatto a mano questo qua è proprio carino bello pesantuccio insomma bello questo cioè così sembra c'è questo scolletto così a barchetta sembra semplicissimo e lo è ma molte volte le cose semplici sono le più belle secondo me perché molto dipende anche da come cadono addosso questo qua mi stava proprio bene bene e quindi l'abbiamo preso e poi l'ultima maglia che abbiamo preso è che a lui è piaciuto tanto il colore vi faccio vedere la spesa complessiva praticamente 36 euro tutto è questa che è un bellissimo rosso proprio rosso 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 cioè no rosso non rosso vabbè questa qua l'abbiamo pagata un pochino di più perché è venuta a 10 10 alla alla borghese costava 14 euro e 95 questa è solo il 33% di sconto però l'abbiamo voluta prendere comunque perché addosso era proprio carina sono quelle maglie anche belle diciamo stretch quindi insomma vestono bene addosso non sono questa va un pochino pochino più rispetto alle altre no attillata vabbè è proprio quella vestibilità più come posso dire è un pochino più attaccata al corpo però è comunque morbida e ha questo colore bellissimo e quindi ho detto no vabbè mi piace tantissimo poi credetemi questa per esempio rispetto agli altri sembra più sottile però è è calda cioè sono sono molto calde addosso tutti quanti questo è quello che mi piace di più però sono tutte sono tutte belle e vabbè raga niente queste erano le cose che vi volevo far vedere vi ringrazio per aver guardato questo video e se vi fa piacere e questi video vi dovessero piacere lasciatevi un pollicino in su e niente ci vediamo in un prossimo video ciao ciao